Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico In questo episodio della serie Weird Stuff, robe strane e misteriose vi voglio raccontare una cosa veramente strana che mi è capitata Non è propriamente un avvistamento di un fantasma ma una fotografia anomala catturata dal mio telefonino e la fotografia ha obiettivamente qualcosa di veramente criptico Il 19 novembre del 2016 andai a un convegno a Macerata mi fu data la camera 503 io con il mio smartphone NGM Voyager feci un po' di fotografie per ricordarmi dell'evento puntai, scattai e niente di particolare diciamo era stato mostrato dal visore tutto era a fuoco, andava tutto bene quindi non c'erano particolari diciamo problemi emersi quando poi tornai a casa scaricai le fotografie via USB sul computer ecco, mi accorsi che una fotografia era davvero davvero strana quella che vedete a video la fotografia è obiettivamente sfocata come se un'ombra fosse passata davanti la cosa strana è che mi ricordo che quando puntai lo smartphone niente di strano era stato mostrato dal visore ho fatto alcune elaborazioni con GIMP per cercare di far risaltare la grande macchia nera che compare davanti all'obiettivo e che rende sfocata tutta la foto e che rende sfocata tutta la foto c'è come una presenza scura con una sorta di becco oppure di cappuccia a forma di becco c'è uno strano semicerchio luminoso in basso che sembra circondare la figura la figura sembra avere una sorta di becco come indossasse un saio e sembra quasi come se fosse una mano che indicasse sulla sua sinistra ora a vedere bene la zona di luce che sta in alto a destra c'è una serie di rigature quasi come fossero delle scale un portale quasi come una gradinata di un portale dimensionale forse è morto qualcuno in quella stanza d'albergo pure la mobilia non è nuova e proviene da un'asta da una casa fantasmatica un fantasma in un albergo è proprio un classico dei classici io non ne ho davvero idea di cosa sia questa roba qua che vedete a video peraltro quando ho scattato la fotografia ero dietro la porta ero solo in camera, ero fermo e lo smartphone Voyager mi mostrava a video la stanza perfettamente a fuoco io ho il file in digitale chi fosse interessato a studiare la foto oppure a sbirciare lì negli EXIF può contattarmi per email provvederò a mandargli la fotografia in JPEG gratuitamente questa puntata è tutto ciao, un saluto, alla prossima